Bella ragazzi, qui Frene, dopo non so quanto tempo siamo qui a registrare un intro per un video di YouTube solamente per dirvi che nelle 10 ore che avete provato FIFA 22, molti di voi mi venivano in stream e mi dicevano Fre, ma io non so come cazzo devo tirare, come devo segnare così che i portieri parano tutto io in primis faccio 20 tiri a partita e faccio due gol per puzza in questo video lo potete vedere, cotto e fontina proprio qui, mangiato, com'è che fa a cabino? no, eccolo, udetevi il video e lasciatela, vai, Cristiano Ronaldo nei marpunte, o almeno proviamo il cazzo di Ronaldo Erzium, Erzium, ecco perché allora ogni tanto mi faceva robe strane in campo e me la passava a chi non volevo ok, dovevamo un attimo scaldacce, si però che sfiga, ma te pare che mi si rompe il pad della 5, si? te l'ho pure trattato coi guanti, ce neanche a DC, oh, li sbatti Fre, ma questo si non l'ho proprio toccato l'avrò giocato, l'avrò giocato due volte alla 5, bello palo, vabbè da lì non è che si poteva far tanto, vabbè sto draftez io lo vinco pure col pad rotto, non me ne frega un cazzo dammi sta palasce, ma dai ma non l'ho tocchiato va bello, Fre le rompe il pad e compie il miracolo, oh Cristiano, oh Cristiano, no, ammazza comunque Cristiano mi sembra bello, bello agile in realtà mezzo che lo sto a fillare, ma quante persone c'ha dietro? ma quante persone c'ha porco dio, 40.000, sto cornuto un altro gol no, vabbè, dai, ma me stai pia per culo, dai, ma me stai palesemente prendendo per il culo, un filtrante con due difensori miei rigore, non è rigore, dai, oh ma che fai? gliela recuperamo? forse ma guarda qua ma guarda quanto c'ha la difesa bassa attacca con due pe... dai mamma mia, questo sta con l'asciugamano no, porco di... aaah oppela lì aaah, che bello Bello È regolare Mamma mia sta minestra Siamo vivi Siamo vivi Siamo vivi porco di Vabbè Vabbè Non ci credo Guarda che culo Gliela ha salvata il giocatore Sti cazzo d'autoblock in culo ve li dovete mettere Tutti nel culo Olè Vabbè 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 Ci rifamo al secondo tempo 7 diri a 5 Sto a perdere 2 a 1 Dai Cristian Dai Cristian No ragazzi L'analogico me l'ha fatta Ma dove cazzo ha fatto quel pass Ma dai Ma se l'era bevuto Se l'era Ma dove cazzo è andato Con quella finta Cristo Dio Ma vaffanculo va Madonna Niente Non tira Toccherà a perdere sta partita Ce l'ho capito Niente Upamecano Si Da tutte le parti Grosso Upamecano Ma vattalo a prendere in culo Dai Un altro Un altro Che spettacolo E' veramente il miglior gioco del mondo Ho preso 3 gol così 3 gol uguali Si 3 gol dove il tiro così a giro risalà è imparabile Nonostante io sposti già tutto il portiere Cioè io non gli segno Cioè guarda Cristiano Ronaldo Si Guarda il portiere Lui 3 gol con salata 25 metri Dai porco Dio Ah Gesù Ah vaffanculo dai Che presa per il culo Angolo No Non c'ho parole raga Cioè non Penso che il gameplay possa Cioè commenti da solo Eh ragazzi non Io sono scioccato Si Io spero che Per favore fate Modificate un pelo Questo gameplay Perché un altro anno così no Cioè un altro anno dove Dove succedono cose fuori dal normale No per favore Cioè un altro anno no Non posso regge Ah Cioè guarda che Ah cioè quindi devi fare così Devi tirare a 30 metri a giro Che schifo porco Dio Dio cane mi sta salendo il vomito Ah però lui Le para Ma non è quella la mattonella Si serve proprio È la mattonella Quella Alla Robben Che è buggata Cioè la mattonella Alla Robben Si È da qua che è buggato Cioè la mattonella Tutta laterale E io ho perso Veramente sta partita Cioè io ho perso Sta partita Perché questo Stai bug del gioco Quattordi Quattordici Tiri in porta Un gol Cioè io ho preso Io ho preso sti gol Si Cioè io ho preso Cinque gol così Punto esclamativo bug Per segnare su sto gioco Ma sta con tutto il corpo girato Ma guarda Guarda come ha tirato Ma sta in orizzontale Sta con tutto il busto in verticale E con la gamba in orizzontale Ma che gol è dai Cioè io Io quattordici Tiri in porta Gli ho fatto Ho fatto un gol Grazie a tutti.